Lele è una vigilia molto particolare, si è fatto male anche Balzano, non ci sarà Brugman? Sì, ci saranno delle defezioni, purtroppo sono cose che capitano dopo tante partite, un po' di carico di lavoro, di minutaggio eccessivo e è stato insomma così. Oggi è fermato Antonio per un problema muscolare, ancora da valutare. Gassi invece comunque ha questo problema già con gli esami strumentali certificato e non ci sarà. Infortuni di natura muscolare, quanto incidono le superfici? Insomma anche un po' dure, non so, il sintetico? Ma sì, effettivamente passare dall'erba al sintetico, ma soprattutto accumulare il lavoro sul sintetico può comportare questi rischi. Naturalmente noi ci adattiamo a tutto e quando purtroppo capiono queste cose si va avanti, è una rosa ampia e giochiamo con chi è a disposizione. Che momento è? Perché il Pescara nonostante tutto è quarto in classifica a due punti della promozione diretta, mi viene un po' da sorridere. Assolutamente positivo, è un momento che magari si creano delle strane situazioni, strane chiacchierici per dare un po' così. Però noi siamo tranquilli, lavoriamo con serenità, il mister ha l'esperienza giusta per superare magari anche qualche voce di troppo. La squadra è convinta, affiatata, quadrata e compatta, quindi alla grande. Ti faccio l'ultima sullo Spezza, che è un avversario di spessore di questo campionato. Viene da una bellissima vittoria con il Livorno, anche se era a reduce da due sconfitte consecutive. È una squadra che sa fare la partita, ma sa anche ribaltare velocemente il fronte quando il pallino ce l'hanno gli avversari. Squadra forte, squadra forte, con esterni molto temibili perché veloci. Squadra che comunque si difende con ordine, però soffre anche le ripartenze e quindi anche il gioco stretto centrale. Noi abbiamo preparato la partita bene e cercheremo assolutamente di fare la partita perché siamo qui in casa. Vogliamo regalare ancora soddisfazione ai tifosi, siamo convinti che il nostro cammino è ancora a metà e cercheremo di fare il meglio possibile fino a fine anno. Sei d'accordo con me che i numeri sono relativi nel calcio? Parlo del sistema di gioco, 4-3-3, 4-3-1-2. La cosa fondamentale, il segreto è mantenere le distanze giuste tra i reparti. Sì, stare corti e stretti è una cosa fondamentale. Gli interpreti che scendono in campo che abbiamo noi a disposizione sono giocatori esperti. Applicano tutti i moduli alla grande, che sia a 3 della difesa, che sia a 4. E noi qualsiasi cosa comunque scegliamo durante la settimana, i ragazzi rispondono presente.